Musica Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. Partiamo dall'economia. È nata oggi dalla fusione della BCC pordenonese e della BCC di Monastiere del Sile, la nuova BCC pordenonese e monsile. A San Cirlo il voto dell'Assemblea dell'Istituto Friulano nel Palasport di Pordenone. Una raccolta diretta aggregata di oltre 2,8 milioni di euro, un patrimonio di 174 milioni, un attivo creditizio di oltre 2,5 miliardi, 17.200 soci, 74.300 clienti, 407 dipendenti, 58 filiali operative nelle province di Pordenone, Treviso e Venezia e altre 4. Ne saranno aperte entro il 2022. Sono questi i numeri della BCC pordenonese e monsile, che nasce dalla fusione della BCC pordenonese con la BCC di Monastiere del Sile. Oggi l'Assemblea della Banca del Friulio Occidentale ha sancito definitivamente il matrimonio, già approvato ieri da quella della BCC monsile. Diventiamo con questa Assemblea una delle prime realtà nel Triveneto per numero di soci e soprattutto anche per attivo della banca. Il presidente della BCC pordenonese Lorenzona ha spiegato quali sono gli obiettivi del nuovo istituto. Affrontare il futuro con consapevolezza, con la consapevolezza che il mercato regala pochi spazi per poter fare ottimi ricavi. Il tema della fusione permette di migliorare i ricavi e ridurre i costi. Significa per il socio e per il cliente migliorare i servizi al cliente e riuscire ad avere un nuovo tipo di marginalità che ci permetterà di riversare nel territorio ulteriori contributi in ambito sociale. La nuova realtà del credito cooperativo, che appartiene al gruppo bancario Icrea e che sarà operativa dal 1 gennaio, avrà sede legale ad Azzano X, quella amministrativa a Monastier e il nuovo CDA rifletterà una composizione paritaria. La BCC di Monastieria del Sile esprimerà sei membri, tra i quali il presidente, posto per il quale è già stato disegnato il sociologo Daniele Marini, nome che dovrà essere ratificato dal nuovo CDA, mentre la BCC pordenonese indicherà il direttore generale e sette componenti, tra i quali il vicepresidente. Ancora economia, accordo storico sottoscritto oggi tra un'industria pordenone e le sigle sindacali del comparto chimici, che prevede maggiore partecipazione dei lavoratori nelle scelte e nelle strategie delle aziende. Più peso dei dipendenti nelle strategie aziendali, questa è la finalità di un accordo sottoscritto tra un'industria pordenone e i sindacati del comparto chimico, tessile e plastica a gomma del Friuli Occidentale. Il patto interesserà circa 4.000 occupati in un centinaio di aziende. Si propone di coinvolgere direttamente i lavoratori nei processi di innovazione e di miglioramento delle performance aziendali, con incrementi di efficienza e produttività, oltre a migliorare la qualità di vita e del lavoro. Diventa sempre più importante costruire dei sistemi che consentono la partecipazione qualificata dei lavoratori, come attraverso la costituzione di commissioni. Queste commissioni si assumono anche il ruolo di studiare e di proporre dei piani di innovazione che valutate dalle imprese possono costituire il vero valore aggiunto della partecipazione diretta appunto delle maestranze ai processi anche produttivi e innovativi delle imprese. Questo è un accordo che ha una portata storica perché accordi di questo genere, con queste caratteristiche, in ambito nazionale non ce ne sono. È un accordo che modernizza le relazioni industriali e ci fa uscire da quel contesto tipico del Novecento industriale, quindi è un accordo estremamente positivo. Per i lavoratori sicuramente è un'opportunità perché possa sapere anche in maniera molto franga quello che sono le attività dell'azienda e la tipologia di investimenti e di finanziamenti che hanno portato alla costruzione delle imprese. Il nostro territorio dimostra ancora una volta come l'impresa manifatturiera che è nata, è cresciuta, si è sviluppata e ha prosperato in provincia di Pordenone è fatta non solo di competenze professionali specifiche ma anche di una consapevolezza legata al riconoscimento del ruolo dei lavoratori. Salari più pesanti per i dipendenti dei magazzini Amazon a partire dal prossimo gennaio a beneficiarne anche i lavoratori del centro di smistamento di Fiume Veneto per il quale nel 2020 sono in programma nuove assunzioni. Una buona notizia prima di Natale per i dipendenti Amazon. Il colosso americano dell'e-commerce a partire dal prossimo gennaio garantirà un aumento di stipendio a tutti i dipendenti del magazzino in base alla loro anzianità aziendale. Inoltre per i nuovi assunti il salario di ingresso sarà più consistente di 100 euro lordi al mese. A beneficiarne dunque saranno anche i lavoratori attuali e futuri del centro di smistamento aperto in Friuli a Fiume Veneto alla fine della scorsa estate. Nel centro pordenonese lavorano una trentina di dipendenti a tempo indeterminato ai quali se ne aggiungono altri a tempo determinato. Il periodo natalizio è tra i più intensi ma va considerata anche una settantina di corrieri assunti dalle ditte partner. Per quest'ultimi non è previsto direttamente un aumento dello stipendio ma l'azienda per i partner del servizio di consegna richiede ai fornitori di applicare il codice di condotta Amazon che prevede che i loro dipendenti percepiscano compensi adeguati. A Fiume Veneto inoltre, vista la buona partenza, sono in previsione nuove assunzioni nel 2020. E proprio oggi Amazon ha annunciato che quest'anno ha creato in Italia più di 1.400 posti di lavoro a tempo indeterminato con un aumento del 25% rispetto alla fine del 2018. In questo modo l'azienda ha superato il piano annunciato nel mese di luglio che prevedeva 1.000 nuovi posti di lavoro entro la fine dell'anno. Attualmente Amazon dà lavoro a più di 6.900 dipendenti a tempo indeterminato in tutta Italia e dal 2010 al 2018 ha investito un totale di 4 miliardi di euro nel bel paese cifra che include sia le spese in conto capitale, come le infrastrutture, i centri di distribuzione, gli uffici aziendali, sia le spese operative, come gli stipendi dei dipendenti o i costi sostenuti per fornitori del settore logistico impiegati per consegnare i prodotti ai clienti. Passiamo alla cronaca. Un ragazzo di una scuola superiore di Maniago è stato sorpreso dall'insegnante mentre si stava preparando uno spinello in classe. I carabinieri l'hanno trovato in possesso di 31 grammi di ascesi. Scusi prof, mi stavo facendo uno spinello. È stata la risposta che uno studente sedicenne di un istituto scolastico superiore di Maniago ha dato alla propria insegnante quando l'ha ripreso perché distratto. Il fatto è caduto ieri verso mezzogiorno durante una lezione in laboratorio. L'insegnante ha ordinato al ragazzo di gettare via la sostanza e di seguire la lezione e lui se n'è disfatto facendo canestro nel cestino dell'aula. L'insegnante ha poi dato un'occhiata nello zaino dello studente e ha notato una sostanza sospetta. La dirigenza dell'istituto è stata messa al corrente dell'episodio e sono stati chiamati i carabinieri di Maniago che hanno trovato il sedicenne in possesso di 31 grammi di ascesi. Il giovane è stato accompagnato a casa dei genitori in credoli dove dalla perquisizione sono saltati fuori un bilancino di precisione, due grinder e una pipa tipo bong. La sostanza e i materiali sono stati sequestrati e il ragazzo è stato denunciato alla procura per i minori di Trieste per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Andiamo in città sulla raccolta dei rifiuti porta a porta a Pordenone. Il sindaco Alessandro Ciriani è dubbioso. Per il primo cittadino è preferibile puntare sui bidoni stradali e potenziare la consapevolezza degli utenti nel fare la differenziata. Di questo e di molto altro, investimenti futuri, nuovo stadio e viabilità, Ciriani ha parlato in una lunga intervista che vi proporremo questa sera nel corso di Eletroshock in onda dalle 21. Capitolo rifiuti, la Tari cala, Pordenone da tempo è ai vertici della raccolta differenziata, anche qui si sta pensando al porta a porta. A Udine abbiamo visto che però questa nuova modalità sta creando parecchi malumori. Su questo come intende muoversi Pordenone? Guardi, la Tari intanto cala ed è un aspetto positivo. C'era qualche uccello del malogurio che diceva che Gea sarebbe saltata e che la Tari sarebbe schizzata. Al contrario Gea continua a fare utile e la Tari continua a diminuire, cosa di cui siamo assolutamente orgogliosi. Sul porta a porta noi abbiamo commissionato uno studio, ma io sono particolarmente freddo su questa opzione. Perché? Perché non è che il porta a porta aumenta la differenziata, il porta a porta è un sistema diverso di raccolta, ma nel momento in cui Pordenone ha i vertici nazionali per la differenziata con i cassonetti, per quale ragione in una città fortemente urbanizzata e caratterizzata da condomini, non da villette, devo sottoporre il cittadino ad un ulteriore sforzo, cerco di tenere 7-8 bidoncini nel proprio appartamento. Se funziona la differenziata con i cassonetti, continuiamo con i cassonetti, senza punire il cittadino che è già bravo nel fare la differenziata con i cassonetti. E invece che spendere 2 milioni, 2 milioni e 3 per convertire da cassonetti a porta a porta, forse è meglio spendere 200 mila euro, che sono un decimo, per fare un'opera di sensibilizzazione su come si conferisce correttamente il rifiuto e come si fa bene la differenziata. Conseguentemente spenderei meno soldi e manterei questo sistema. Poi lo vedremo, se lo studio dice che dico delle sciocchezze, ovviamente è pronto a rimangiarmi la parola e dire andiamo sul porta a porta. Pordenone è comunque una città pulita, se funziona questo sistema direi di continuare su questa rotta e puntare molto di più sulla sensibilizzazione e sulla cultura di come si gestisce il rifiuto. Due lettini, nuove divise e uno strumento per l'emocromo sono i doni dell'Associazione Italiana Leucemie per il reparto di pediatria dell'ospedale di Pordenone. Un importante dono dell'Associazione Italiana Leucemie sotto l'albero della pediatria di Pordenone. Nel reparto ospedaliero dedicato ai piccoli sono stati consegnati due nuove lettini, nuove divise e soprattutto uno strumento capace di effettuare l'emocromo. Il materiale, del valore complessivo di circa 17.000 euro, è stato portato dal presidente dell'AIT pordenonese Aristide Colombera. Inoltre l'associazione ha garantito anche un rinforzo per lo staff di pediatria. L'aiuto è stato più importante rispetto agli anni scorsi, nel senso che l'AIT ci ha regalato due lettine d'altezza variabile per riuscire a seguire meglio i bambini quando li visitiamo in ambulatorio. È uno strumento che ci consente di eseguire gli emocromi a casa dei bambini oncologici, avendo la possibilità di avere in tempo reale i dati. Cosa più importante, da domani ci hanno dato la possibilità di assumere due infermieri in più. I doni saranno utilizzati anche per l'assistenza domiciliare offerta dal reparto che consente ai piccoli pazienti di essere curati dal proprio lettino. Nessun bambino a questo mondo vuole rimanere all'interno delle mura di un ospedale nonostante i tentativi che noi facciamo per renderlo accogliente la casa, è il luogo dove esistono gli affetti, dove esistono i genitori, i fratelli, dove esistono i giocattoli. Per quanto riguarda i numeri, noi seguiamo circa 60 bambini a domicilio in questo momento. Una metà sono bambini che hanno patologie di interesse emato-oncologico, che sono dei bambini che noi per un periodo breve della loro vita riusciamo a seguire in maniera abbastanza intensiva a casa e poi i bambini che hanno bisogni speciali, patologie non-oncologiche che richiedono comunque di un'assistenza complessa e che molto spesso richiede l'utilizzo anche di una tecnologia molto elevata. Il nostro telegiornale termina qui, l'appuntamento è per domani sempre alle 20.45. Vi lascio in compagnia di Eletroshock condotto da Alessandra Salvatori. Grazie di essere stati con noi e buona serata. Grazie a tutti.